Piantare alberi è tra le cose che più mi piace fare nella vita. Sono figlio di contadini, mamma, papà, nonni, mi hanno trasmesso l'amore e il rispetto per la terra. 40 anni fa piantavo i primi alberi assieme a loro, fianco a fianco, il tempo scandito dal ritmico battere della zappa. Oggi vivo a un ritmo differente, più rapido e avvolgente, negli stessi luoghi, nella stessa terra, con le stesse piante. La ricerca è uno degli aspetti più interessanti del mio lavoro, lo studio delle specie, la biomimetica, la tecnologia, il design e i materiali. Dagli alberi e dalla natura arriva l'ispirazione. Osservare le piante mi ha insegnato che la vita è migliore quando esistono relazioni e radici. Oggi posso contare su persone che collaborano con me e condividono la mia stessa passione. Le mie piante si sono vestite di luci e di nuove forme, illuminano le piazze delle città durante le feste. Le stesse piante fanno oggi qualcosa in più. Quando Natale arriva accendono la gioia nel cuore delle persone. Grazie. 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 Grazie.